Le parole che stai per ascoltare sono contenute nel libro PNL e Carisma di Owen Fitzpatrick, nel capitolo dedicato alla filosofia carismatica. Da ascoltare ogni giorno per ricordarti di chi veramente sei. Versione maschile. Buon ascolto! Sei saggio e pieno di conoscenze. Sei creativo e originale, a volte addirittura geniale. Sei curioso e hai la mente aperta. Sai prendere buone decisioni. Sei bravissimo a imparare cose nuove e ti piace tantissimo farlo. Riesci a vedere le cose da diversi punti di vista. Sei coraggioso, forte e sicuro di te. Sei flessibile, costante, determinato, motivato. Sei pieno di integrità, onore, onestà e gentilezza, una fonte di ispirazione per gli altri. Sei comprensivo, sincero e generoso. Hai senso di giustizia, uguaglianza e umanità. Hai un'energia straordinaria. sei allegro e positivo e vedi il futuro in modo ottimista. Sei un grande leader, hai un autocontrollo fantastico e hai un grande senso di gratitudine e apprezzamento per tutto ciò che hai nella tua vita. Hai un ottimo senso dell'umorismo e ami la tua vita. Ti vuoi bene e la tua vita è piena di amore. hai una straordinaria capacità di amare e di essere amato. Riesci a entrare facilmente in contatto con gli altri e sei bravo a stare in mezzo alla gente. Ogni giorno fai del tuo meglio in tutto ciò che fai. In breve sei assolutamente fenomenale. Ora la buona notizia è che anche se non credi che queste frasi ti descrivano appropriatamente è tutto vero. Tu sei così. Questo è quello che sei nella tua versione migliore. Perciò ogni volta che ti chiedi chi sono, leggi la mia risposta o ascolta le mie parole. È la cosa più vicina alla realtà che puoi trovare.